Fabio Furia a Matera per la quattordicesima edizione del Fadiesis Accordion Festival. Bandoneon, Fabio Furia e Tango in Matera. Sì, sono veramente felice di essere qui oggi a Matera, che è stata per me una grandissima scoperta. Sapevo che Matera è straordinariamente bella, ma vederla dal vivo è stato realmente emozionante, come anche essere qua oggi in questo bellissimo auditorium, in compagnia dell'Orchestra Sinfonica di Matera, con il mio grande collega e amico Marco Schirru, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi, per un evento che nasce un po' da una collaborazione con l'Associazione Fadiesis e l'Orchestra Sinfonica di Matera. E devo dire che ho accolto di buon grado e con molto entusiasmo questa collaborazione, che si sta rivelando veramente una grande opportunità. Il tango e passione, sia nella danza e nella musica, com'è ancora più passione? La musica è un linguaggio, in quanto un linguaggio è portatrice appunto di un messaggio, e il messaggio del tango è fortissimo, nel tango c'è tutto. Un grande poeta argentino dice che se non lo dice il tango non esiste, il tango rappresenta la vita. Grazie. 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 Grazie.